Per incontrare Dio non bisogna aspettarsi miracoli, ma piuttosto fare tanti salutari i bagni di umiltà. Lo ha affermato il Papa domenica scorsa all'Angelus commentando il Vangelo del giorno che racconta la prima predicazione di Gesù nel suo paese a Nazareth. Gesù, ha precisato Francesco, si presenta come non ce lo aspetteremo e per questo motivo nessuno lo trova se cerca segni di esteriorità, sensazioni nuove, esperienze intime e altre cose strane. Soltanto lo trova invece chi accetta le sue vie e le sue sfide, senza lamenterle, senza sospetti, senza critiche e mossi lunghi. Gesù, in altre parole, ti chiede di accoglierlo nella realtà quotidiana che vivi, nella Chiesa di oggi, così come Lui è in chi hai vicino ogni giorno, accogliere Gesù che ti è vicino ogni giorno, nella concretezza dei bisognosi, nel problema della tua famiglia, nei genitori, nei figli, nei noni, accogliere Dio lì. Dunque, ha aggiunto il Papa, non serve pensare di sapere tutto di Gesù, il rischio, ha spiegato, è di abituarci a Gesù, chiudendoci alle sue novità. Noi dobbiamo uscire di essere fissi nelle nostre posizioni. Il Signore chiede una mente aperta, un cuore semplice. E quando una persona ha una mente aperta, un cuore semplice, ha la capacità di sorprendersi, di stupire. Il Signore sempre ci sorprende. E questa è la bellezza dell'incontro con Gesù. Nel Post Angelus il Papa ha ricordato la giornata mondiale dei malati di Lebra e ha esortato ad impegnarsi per fronteggiare questa patologia ancora molto diffusa. Esprimo la mia vicinanza a quanti soffrono di questa malattia e auspico che non manchino loro il sostegno spirituale e l'assistenza sanitaria. È necessario lavorare insieme alla piena integrazione di queste persone, superando ogni discriminazione associata a un morbo che purtroppo colpisce ancora tanti, specialmente in contesti sociali più disagiati. A seguire l'augurio alle popolazioni, soprattutto dell'Estremo Oriente, che festeggiano il Capodanno Lunare. In questa circostanza rivolgo il mio cordiale saluto ed esprimo l'augurio che il nuovo anno tutti possono godere la pace, la salute e una vita serena e sicura. Come bello quando le famiglie trovano occasione per radunarsi e vivere insieme momenti di amore e di gioia. Prima di congedarsi dai fedeli radunati in piazza San Pietro, Francesco ha rivolto un pensiero alla gioventù, in primo luogo salutando la famiglia salesiana alla vigilia della festa di San Giovanni Bosco. Pensiamo a questo grande santo, padre e maestro della gioventù. Non si è chiuso in sagrestia, non si è chiuso nelle sue cose, è uscito sulla strada a cercare i giovani con quella creatività che è stata una caratteristica di lui. In conclusione invece un affettuoso abbraccio ai ragazzi e alle ragazze dell'azione cattolica della diocesi di Roma presenti all'appuntamento domenicale al termine della tradizionale carovana della pace. Il vostro slogan è «Ricucciamo la pace», è un bel slogan, è importante, c'è tanto bisogno di ricuccire, partendo dai nostri rapporti personali fino alla relazione tra gli stati. Vi ringrazio, andate avanti e adesso liberate verso il cielo i vostri palloncini come segno di speranza. Eccolo. È un segno di speranza che ci portano i ragazzi di Roma oggi, questa carovana per la pace. Telegramma del Papa al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella dopo la sua rielezione al Quirinale avvenuta sabato scorso. Il suo servizio è ancora più essenziale per consolidare l'unità e per trasmettere serenità al Paese, scrive Francesco, sottolineando lo spirito di generosa disponibilità con cui il Capo dello Stato ha accolto il suo secondo mandato in questo tempo di pandemia e di incertezza. Tempo, osserva il Papa, segnato dalla diffusione di molti disagi, specialmente nell'ambito lavorativo, e dall'aumento insieme alla povertà anche della paura che porta a chiudersi in se stessi. Le assicuro la mia preghiera, si legge ancora, affinché possa continuare a sostenere il caro popolo italiano nel costruire una convivenza sempre più fraterna e incoraggiarlo ad affrontare con speranza l'avvenire. I Santi Patroni d'Italia, conclude Francesco, la accompagnino e intercedano per lei. Nella giornata di sabato scorso il Papa ha ricevuto in udienza una delegazione di membri dell'Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio, che ha come obiettivi quelli di promuovere la cultura scientifica del mondo della pelle, di creare contatti tra gli addetti ai lavori e di supportare la formazione scolastica con borse di studio nei principali distretti conciari italiani. Nel suo discorso Francesco constata le difficoltà del mondo del lavoro, aggravate da due anni di pandemia, esortando a tenere alta la guardia sui temi di giustizia e sicurezza. Molti lavoratori e lavoratrici e molte famiglie vivono situazioni difficili, aggravate dalla pandemia, ma la pandemia non può e non deve diventare un alibi per giustificare omissioni nella giustizia o nella sicurezza. Al contrario, la crisi può essere affrontata come un'opportunità per crescere insieme nella solidarietà e nella qualità del lavoro. Ricordando gli anni giovanili e lo studio presso un istituto tecnico di indirizzo chimico a Buenos Aires, il Papa si dice vicino alla categoria di lavoratori ricevuti in udienza e poi riflette su uno dei punti critici di questo settore. Si tratta dell'impatto ambientale di attività che, come la vostra, utilizzano sostanze chimiche per trattare i materiali, nel vostro caso i pellami destinati a diventare borse, scarpe e così via. Tante cose che usiamo ogni giorno e non pensiamo al lavoro che c'è dietro. Anche voi, dunque, siete chiamati a dare il vostro specifico contributo alla cura della casa comune e potete farlo proprio nel modo di impostare il vostro stesso lavoro. Infine, il Santo Padre riflette sull'importanza dell'associazionismo. Perché si mettono in comune le conoscenze, le esperienze, come pure gli aggiornamenti giuridici e tecnici. E così ci si aiuta a crescere insieme in uno stile di responsabilità sociale ed ecologica. E questo è molto importante. Oggi abbiamo più conscienza della responsabilità ecologica. Abbiamo cresciuto in questo, è una grande cosa. Siamo cresciuti in questo. Il Papa affronta alcuni nodi cruciali dell'informazione in questo tempo di pandemia, ricevendo in udienza i partecipanti all'incontro promosso dal Consorzio Internazionale di Media Cattolici, Catholic Fact Checking. Francesco sottolinea come lo scopo del Consorzio sia quello di essere insieme per la verità. Fare rete, prosegue, è fondamentale nel campo dell'informazione, in particolare in un tempo di divisioni e di opinioni differenti. Non possiamo nasconderci che in questo tempo, oltre alla pandemia, si diffonde la infodemia, infodemia, cioè la deformazione della realtà, basata sulla paura che nella società globale fa rimbombare ecchi e commenti su notizie falsificate se non inventate. A questo clima può contribuire spesso inconsapolamente anche il moltiplicarsi e accapalarsi di informazioni, commenti, pareri, i cosiddetti scientifici che finiscono per ingenerare confusione nel lettore e nell'ascoltatore. Il Pontefice evidenzia poi l'importanza di fare alleanza con la ricerca scientifica sulle malattie, tenendo presente che il sapere va condiviso. Questo vale anche per i vaccini. È urgente aiutare i paesi che ne hanno di meno, ma occorre farlo con piani lungimiranti, non motivati solo dalla fretta delle nazioni benestanti di stare più sicuri. Perciò essere correttamente informati, essere aiutati a capire sulla base dei dati scientifici e non delle fake news è un diritto umano. La corretta informazione va garantita soprattutto a coloro che sono meno provvisti di mezzi, ai più deboli, a coloro che sono più vulnerabili. Il Santo Padre avverte come i cristiani debbano essere i primi a dover evitare la logica della contrapposizione. È necessario contrastare le fake news, ma vanno rispettate sempre e comunque le persone che spesso inconsapevolmente vi aderiscono. Cerchiamo di operare per la corretta e veritiera informazione sul Covid-19 e sui vaccini, ma senza scavare fossati, senza ghettizzare. La pandemia ci invita a aprire gli occhi su ciò che è essenziale, su ciò che davvero vale, sulla necessità di salvarci insieme. Il Papa conclude il suo discorso con una riflessione sulla parola verità che deve guidare il lavoro dei comunicatori cristiani. La ricerca della verità non può essere piegata a un'ottica commerciale, agli interessi dei potenti, ai grandi interessi economici, no. Essere insieme per la verità significa anche cercare un antidoto agli algoritmi progettati per massificare la redditività commerciale. Significa anche promuovere una società informata, giusta, sana, sostenibile. Senza un correttivo etico, questi strumenti generano un ambiente di estremismo e inducono le persone pericolose a radicalizzazione. La giornata di mercoledì scorso il Papa ha ricevuto in udienza i prelati uditori, gli ufficiali, gli avvocati ed i collaboratori del Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. In particolare, in quest'anno dedicato alla famiglia, l'incontro è stato l'occasione per riflettere sulla sinodalità nei processi di nullità matrimoniale. Francesco sottolinea come lo spirito sinodale implichi il camminare insieme con l'obiettivo di far risplendere la verità su un'unione, arrivando alla conclusione sull'esistenza o meno di un vero matrimonio tra i coniugi. Già nella fase pregiudiziale, quando i fedeli si trovano in difficoltà e cercano un aiuto pastorale, non può mancare lo sforzo per scoprire la verità sulla propria unione, presupposto indispensabile per poter arrivare alla guarigione delle ferite. In questa cornice si comprende quanto sia importante l'impegno per favorire il perdono e la riconsigliazione tra i coniugi, anche per convalidare eventualmente il matrimonio nulo quando ciò è possibile e prudente. così si comprende anche che la dichiarazione dell'unità non va presentata come se fosse l'unico oggettivo da raggiungere di fronte a una crisi matrimoniale o come se ciò costituisce un diritto a prescindere dai fatti. Se viene rispettata questa visione del camminare assieme, osserva ancora il Pontefice, allora i processi di nullità sono espressione di un effettivo accompagnamento pastorale dei fedeli nelle loro crisi matrimoniali. Francesco prosegue sottolineando come l'amministrazione della giustizia nella Chiesa sia una manifestazione della cura delle anime che passa attraverso un costante esercizio di ascolto. Come in altri ambiti della pastorale e anche nell'attività giudiziaria bisogna favorire la cultura dell'ascolto, presupposto della cultura dell'incontro. Perciò sono deleterie le risposte standard ai problemi concreti delle singole persone. Ciascuna di esse con la sua esperienza, spesso segnata dal dolore, costituisce per il giudice ecclesiastico la concreta periferia esistenziale da cui deve muoversi ogni azione pastorale e giudiziale. Un altro aspetto importante della sinodalità dei processi evidenzia il Santo Padre è il discernimento. Lo spirito sinodale infatti non è solamente un'inchiesta ma un discernimento che si basa sul camminare insieme e sull'ascolto e che permette di leggere la concreta situazione matrimoniale alla luce della parola di Dio e del Magistero della Chiesa. La decisione dei giudici appare così come un calarsi nella realtà di una vicenda vitale per scoprire in essa l'esistenza o meno di quell'evento irrevocabile che è il valido consenso sul quale si fonda il matrimonio. Solo così si possono applicare fruttosamente le leggi relative alle singole forme di nullità matrimoniale in quanto espressioni della dottrina e della disciplina della Chiesa sui matrimonio.